Ciao a tutti, ben ritrovati su Sanchenmoney. Come sempre, mi raccomando, prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale. Oggi volevo andare a riproporvi dei siti di Faucet di cui vi ho già parlato un po' di tempo fa. Vado a raggrupparli perché fanno parte tutti della stessa famiglia, quindi funzionano pressoché allo stesso modo. Iniziando dal primo, che è questo, Get Your Bitcoin. Per usarli, ovviamente, bisognerà iscriversi tramite i link che trovate in descrizione semplicemente inserendo il proprio wallet di Bitcoin. Per andare a reclamare i nostri Faucet, i nostri Satoshi di Bitcoin, basterà semplicemente cliccare sul tasto Claim Your Satoshi. Ci sarà richiesto quindi di andare a risolvere dei captcha ed il gioco è fatto. È possibile fare questo ogni 5 minuti come riportato dal sito. Quindi vado a cliccare su Claim Your Satoshi, vado a risolvere i due captcha che mi vengono richiesti, quindi il primo, clicco, mi viene questa sorta di puzzle che vado a centrare e vado a risolvere il secondo cliccando sulle figure secondo la sequenza che mi è richiesta. Quindi Catwoman, Flash, Joker e Superman. Ho fatto tutto e quindi clicco su Claim Your Satoshi. Come potete vedere, 3.34 Satoshi sono stati aggiunti al mio balance. Potete trovare il vostro balance, oltre ad altre informazioni, nella sezione Statistic. Arrivati al prelievo minimo di soli 1.000 Satoshi, si può andare tranquillamente a ritirare o sul proprio wallet personale oppure anche su Faucet Tab. Come potete vedere, in questo momento io ho oltre 1.060 Satoshi, quindi posso andare a ritirare e ne approfitto anche per fare un prelievo. Quindi vado nella sezione Payout e vado a ritirare direttamente sul mio wallet di Coinbase. Quindi clicco la prima dicitura e come potete leggere, 1.070 Satoshi saranno mandati sul mio wallet personale entro la mezzanotte. Quindi questo sito paga tranquillamente nelle 24 ore e mi risulta assolutamente serio e pagante. Dicevo che Get Your Bitcoin fa parte di una famiglia più ampia che racchiude altri siti di Faucet che sono SunBitC funziona allo stesso modo, SunBitC.space, poi c'è TimeForBitcoin, WorldOfBitcoin, ed infine XBit.co. Questo Faucet funziona in modo leggermente diverso perché ci paga direttamente in modo istantaneo su FaucetTab. Adesso vi faccio vedere. Quindi vado su FaucetTab, prendo il mio indirizzo Bitcoin, lo copio, copio, torno su XBit, vado ad incollarlo qui, poi vado a risolvere il CAPTCHA che mi viene richiesto, vado anche ad indicare la sequenza delle parole, questa che viene indicata qua, quindi Bitcoin, Ethereum e Litecoin, ecco qui, Bitcoin, Ethereum e Litecoin, e clicco su Get Rewards. Come potete vedere, 5 Satoshi mi sono stati mandati su FaucetTab e posso ripetere l'operazione ogni 60 minuti. Torno su FaucetTab e vediamo se effettivamente sono stato pagato. Ed ecco qui il pagamento, quindi in modo istantaneo i miei Satoshi sono praticamente arrivati su FaucetTab. Ripeto, questi Faucet funzionano tutti alla stessa maniera perché fanno parte tutti della stessa famiglia ed è un modo assolutamente semplice per andare a guadagnare dei Bitcoin. Quindi io in chiusura vi ringrazio per la visualizzazione, vi rinvito ad iscrivervi, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che andrò a caricare nel canale, like ai video che vi piacciono, io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.